Nella puntata di ieri sera dell'isola dei famosi Edoardo Stoppa è diventato il nuovo leader conquistando il diritto di passare direttamente in finale sconfiggendo Matilde Brandi. Per poter stare vicino al marito la prorompente Juliana Moreira ha trascorso alcuni giorni in Honduras poi dopo dieci giorni ha deciso di rientrare a casa. Nonostante suo marito sia già in finale Juliana Moreira ha espresso la sua disapprovazione riguardo ad Artur Dainese naufrago molto criticato anche Sonia Bruganelli e Dario Maltese hanno espresso opinioni negative su di lui. Juliana Moreira ospite di Verissimo ha dichiarato per me è un no sono d'accordo con Sonia Bruganelli Dario Maltese e Greta ma com'è possibile che Artur vada avanti chi vota dovrebbe riflettere su chi sta sostenendo io dico no no e no non sono d'accordo so